Senatore Giacomo Stucchi, come commenta il discorso di Enrico Letta? Letta ha fatto due tipi di discorsi, nel senso che ha toccato due problematiche. La prima, quella complessiva legato al rinnovamento delle istituzioni europee, ha tracciato, diciamo così, delle linee di indirizzo che possono essere condivise a patto che dalle parole si passi ai fatti. E poi ha parlato dei temi specifici del Consiglio europeo di domani, e quindi l'energia e le tasse, o meglio, l'energia, le fonti rinnovabili e tutto ciò che riguarda la tutela dell'ambiente e dall'altra parte la necessità di unificare le politiche che riguardano l'economia, le scelte economiche e le scelte finanziarie, quindi le banche. Questo ci porta a dire che sono temi complessi dove non deve prevalere la, diciamo così, la pressione che a livello europeo avvengono da parte delle grandi lobby. L'ETA vincerà la sua sfida e l'Europa vincerà la sua sfida, sarà in grado di cambiare e di ritornare alle origini. Io l'ho ricordato nel mio intervento. L'Europa è nata su altre basi, su basi popolari, sul rispetto della gente, senza premiare necessariamente le lobby, ma al contrario difendendo gli interessi veri dei cittadini. Siamo poi passati a una fase in cui le lobby comandavano e imperavano all'interno della Commissione europea e nessuno era in grado di opporsi. L'Italia in modo particolare subiva anche le lobby degli altri paesi. Noi oggi ci dobbiamo svegliare e ricordarci chi siamo. A proposito del suo intervento, lei ha chiesto maggiori garanzie nel campo dell'energia e nel lavoro per i giovani. In particolare che cosa? Sì, noi abbiamo detto che bisogna ridurre i costi dell'energia, bisogna passare sicuramente a una politica di fonti rinnovabili che non possono essere osteggiate in qualsiasi realtà istituzionali perché si applica il criterio che gli inglesi definiscono nimbici, not my backyard, non nel mio giardino, ma che devono trovare una condivisione per quanto riguarda le scelte fondamentali. Sulla disoccupazione è necessario per crescere, far girare l'economia, far assumere tante persone, i giovani in modo particolare, ma anche tanti quarantenni e cinquantenni che sono disoccupati e il cui inserimento lavorativo è più problematico rispetto ai giovani. Tra l'altro con delle caratteristiche, tra virgolette, familiari e sociali ben diverse perché spesso il quarantenne e il cinquantenne hanno una famiglia a carico, dei figli a carico e questo rende più delicata la sua situazione.